Roma stanotte. Roma stanotte sa di bronzo e di luci, di ombre e bagliori. Il Colosseo mi guarda prestabilito e inaccessibile, storicamente indifferente, ai turisti e a me. Il diabete ereditato da mia madre mi sgretola alla salute. Io ho il fiato sul collo della morte e mio figlio piange se non gli compro il gelato. Il Colosseo, che incanta i secoli, continua a guardarmi. Perché? Commento. Perché il tuo corpo fisico guarda la notte. Il tuo corpo astrale ne legge le luci, le ombre e i bagliori. Il tuo corpo mentale pensa alla storia del Colosseo. La tua coscienza sente il fiato sul collo della morte, ma comprerà il gelato a tuo figlio.